Ehi la ciurma, sembrerà impossibile ma siamo ancora qui con l'imperator Rome e siamo ancora qui con una campagna contro Macedonia Allora, mi asfalta tutto, non ho più gente? Porca mannaggia 66.000 truppe e io ne ho 48, porca miseria Questa è parecchio grave adesso Come risiclarà la guerra alla pace adesso Non mi dà entrambe Nella situazione difficile Ma non posso assoldare truppe, vero? No Ma anche assoldarsi il problema è che non ho modo di assoldare tanto Ah, questi sono 45.000 mercenari che potrei prendere E non sarebbe una cattiva idea Se non fosse che Per cosa spendere tutti questi soldi? Vero per avere il pelo ponnesio intero Quattro noi abbiamo? 38 Quelli non riuscirei a metterceli neanche Potrei prendere questi 38 ma non generare davvero scarso Mercenaries Quattro noi abbiamo Questi sono Bisanzio E sono 22-28.000 uomini Tessalonica Questi sono già in territorio nemico Costerebbero 21 ogni mese E molto Nicopolis 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 è anche più succoso La Cina? No E oppure Pella è la capitale loro Torone Cosa è? No, c'è un altro più vicino Nicopolis Nicopolis No, c'è un altro E Beautiful Ci sono di forti qua no potrei mandare le stagioni salvi fino a qua beh intanto provo a prendere quelli anicopolis e rimando qua così loro dovranno spostare la loro attenzione intanto muovo questi ah è in esilio, ok non posso subito mandarli all'assedio allora li farei scendere qua sotto vediamo un attimo come cambia la situazione ma sono entrati in guerra contro la Frigia è in guerra contro Babilonia eh? scusa? no? cosa sto dicendo? con la Macedonia esatto loro cercano di ripigliarsi quello no ho dei barbari qua vuol dire che questi 28.000 fanno delle marce forzate ne servono 28.000 sì ma è meglio loro stanno andando a tenete ok mi sa che però adesso ne spawneranno altri presto allora le truppe per accedere quante sono 66.000 di cui 23 e 13 sono 36 ne mancano solo altre 10 no mancano altre 30.000 altre 30.000 truppe che non sto vedendo in questo momento porca miseria no perdiamo due di legittimità va che è meglio oh 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 guardate che abbiamo pizzicato qua crepio 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 mi pinzano dove vanno adesso? ok ah mi sa che mi pinzano quelli no ma stanno andando eh stratus si e c'errò il 18 ottobre noi arriviamo al 21 eh ok ok perchè voi non ci state dentro? ah no sai cosa perchè essendo separati secondo me non li fa entrare se facessi adesso se ci stanno che strategia stanno usando? stanno usando l'altra abbiamo più efficacia però non resisteremo lo stesso si è salvato qualcuno dei nostri? dove vanno? qua ok perchè i laggi dicono sempre con noi? scusami scusami ma il diventatore come fa a perdere il suo ruolo? ma il diventatore come fa a perdere il suo ruolo? 32.000 uomini? 32.000 uomini? da far disertare le sue armate da far disertare le sue armate mi sa che devo concludere la guerra così ma mi sa che devo concludere la guerra così e quello ancora non arriva o no? 60.000 uomini? 60 anni c'è qualcuno di un po' più giovane? 60.000 uomini? il nostro tizio è un po' più giovane è un po' più giovane è un po' più giovane ok è un po' più giovane è un po' più giovane adesso non ci accetta comunque è un po' più giovane ok 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 eehhhhh eehhhhh vale Prendiamo solo la Konija, ci dai dei soldi magari Posso vendere questi personari? Vabbè li porto a casa per ora dai Li sicuro non siamo messi benissimi al momento in quanto truppe Ok li abbiamo beccati i barbari, tiriamoli giù Ok, è arrivato qualcuno? No, allora C'è un dettaglio stige ma togliamo Tutti e due il pose, ok E voi tornate... Cos'è che era? La Kinopolis Sì Va, tornatelo su Eh no, ma hanno ripreso tutti e due, vabbè Eh no 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 E dovrei dare praticamente quello che mi hanno dato a me per recuperare il mio prigioniero Sesto Nauticon Sesto Nauticon Ah, dove... perché c'ho questi qua? Vabbè, ehhh Andate qua Ah no Ah no, poi adesso sono di nuovo macedonia Beh, speriamo se non altro che la macedonia riesca a picchiare un po' per bene la frigia Speriamo che sia zoppi una vicenda per bene Io nel mentre Ho iniziato a mettere i miei piedini Nel mare mediterraneo Che non è male Adesso di forti dovrei essere abbastanza... Cioè, in quanto forti dovrei essere abbastanza tranquillo Né uno qua, né uno qua Qua tutta la zona centrale è chiusa Qua anche chiuso, beh, non solo a livello 1 Sì, però, beh, è chiuso Posso costruire degli altri edifici per caso? La marketplace mi aumentano tasse, commercio e civilization level Manpower Allora, farei dei marketplace magari Ehhh Sfizzate nella zona qua intorno Alle zone barbariche Basta così che abbiamo speso praticamente a tutti i nostri averi mercati Ehhh... no, grazie Chi sono questi? Ah, Atene? Ma, scusate, Atene esiste ancora? Sì Con chi è alleata Atene? Ah, è il suo dito della frigia Ma secondo me è meglio anche così che si picchino tra loro due Allora Magus Magit Ehhh... Ehhhh... Ehhh... 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 Eh, vado così Il governatore da Siria Vediamo se posso dargli un Contentino A parte che muore tra poco Vorrebbe avere un figlio Ma mi sa che ormai è un po' tardino 75 anni Ma ne ha di figli? Ah no, questi sono i fratelli Ne ha di figli? Ha tre figli Ah, non ha un figlio maschio Ma chiediamo supporto per le reti Va bene, non c'entra niente Vada Perché appunto supportano altri Ah perché io non ho figlia Per ora Ah, queste navi le mandiamo Qua E queste dodici Le terei qua in zona Con questo tizio può dare No Vada Convertiamo un po' di gente Poi concludiamo il video Magari Ah, bisogna che concludiamo il video La gente la posso convertire Anche per conto il mio Faccio il sistema un po' di cose Off camera Io vi auguro una buona giornata Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi per caso non sia già fatto Ciao a tutti Grazie 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 a tutti